Cosa vogliamo sapere? Questa è una domanda leggermente modificata rispetto a quello che si chiede Kant nella Critica della Ragion Pura. Che cosa possiamo sapere? Kant fa un grande saggio di spessore notevolissimo in cui basa la scientificità della nostra conoscenza sui requisiti che appartengono alla nostra natura e quindi le famose forme a priori della conoscenza sensibile e intellettiva, ma anche sull'esperienza e sull'importanza di basarsi sempre sui fatti. Quello che quindi Kant intende elaborare è un criterio che possa rendere la nostra conoscenza la più universale e necessaria possibile, quindi scientifica. La domanda però che pongo è cosa vogliamo conoscere? Cosa vogliamo sapere? Perché se per conoscere in maniera adeguata sappiamo che dobbiamo basarci sui fatti e nello stesso momento che non possiamo fare altro che utilizzare le nostre forme a priori della conoscenza, un discorso complicato insomma che adesso non possiamo approfondire, è anche vero però che forse un po' ingenuamente Kant non tiene conto della problematicità del fatto, tanto più man mano che i secoli da lui in poi vanno avanti e si arriva a una consapevolezza diversa dell'esperienza che viviamo, spesso caratterizzata da una nostra interpretazione continua alla luce del nostro vissuto, ma anche dei nostri gusti, delle nostre fedi, delle nostre convinzioni politiche eccetera, che fa sì che il fatto propriamente detto sia probabilmente un'illusione. E su questa questione ho già, mi sono già espresso molte altre volte, rimando ad altri video, ma è chiaro che questa questione sia collegata a quella che sto cercando di affrontare. Mi riferisco per esempio al caso di Greta Thunberg, di cui ho sempre parlato pochissimo, anche perché io non sono così convinto di tutta la negatività che in certi ambienti, soprattutto quelli che hanno a che fare anche con quello che è il mio lavoro, viene espressa nei confronti di questa sua attività e di questo suo attivismo. convengo senz'altro del fatto che per poter essere arrivata a una tale visibilità debba essere sicuramente sponsorizzata e sostenuta da qualcuno. E ritengo anche che quel qualcuno abbia probabilmente altri fini, sicuramente dei secondi fini oltre quello della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente. Resta però il fatto che, dal mio modesto punto di vista, quel tipo di lotta che Greta sta conducendo sia una lotta importante, che abbia a che fare con un'emergenza veramente, diciamo, ormai tragica, se non più nemmeno drammatica, e che da questo punto di vista, quindi, per quanto l'attività che svolge possa appunto non essere magari così limpida, le finalità che si prefigge sono nell'interesse dell'intera collettività e vadano assolutamente sostenute e perseguite. In questi giorni, in queste ore, circolano fotografie che ritraggono dei manifestanti che hanno aderito alla sua ultima iniziativa e che però avrebbero lasciato in giro per le strade un sacco di sporcizia e di rifiuti. Ho apprezzato molto il lavoro di alcune persone, io ne riporto, ne cito una nella mia pagina Bosco Ceduo di Facebook, che invece sono andati un po' a controllare, a cercare di capire un po' di più quanto fosse affidabile quel tipo di informazione, quanto fossero effettivamente corrispondenti al vero queste fotografie. E ho apprezzato perché quelle foto, chi ha studiato un po' la situazione, insomma si è reso conto che non appartengono a luoghi, che non ritraggono luoghi interessati all'itinerario percorso dai manifestanti, ma che quindi non sono altro che uno strumento per screditare questa manifestazione. Aggiungo che anche quell'altra ragazzotta che adesso invece si sta affacciando alle cronache e sembra di nuovo molto esposta, che invece punta il dito sulle banche e la finanza privata, anch'essa probabilmente per poter essere lì e arrivare lì deve essere stata particolarmente sponsorizzata. E a questo proposito la sponsorizzazione, visto che questa ragazza punta appunto il dito e quindi accusa i grandi banchieri internazionali, questa sponsorizzazione e questo sostegno dal mio punto di vista sono addirittura più sospetti e preoccupanti, ma sono comunque convinto che questo sostegno da dietro ci sia anche per il semplice fatto che per quel che mi riguarda le ricerche che svolgo io invece vengono accolte con pochissima visibilità e faccio una fatica nera per poter arrivare a farle conoscere. Resta il fatto che chi scredita il lavoro di Greta considerandola un burattino nelle mani di chissà quale organizzazione, magari anche giustamente, dall'altro lato però invece non esita a apprezzare il lavoro di quest'altra ragazza di cui adesso purtroppo non ricordo il nome e che quindi sembrerebbe invece assolutamente pura e limpida nella sua grande visibilità che sta ottenendo. È evidente quindi che si debba tornare alla domanda che cosa vogliamo veramente sapere? Perché il rischio è sempre lo stesso. Il rischio è quello di non fidarsi più delle sciocchezze, a volte anche gravi e criminali che vengono raccontate dai media ufficiali per poi invece fidarsi ciecamente delle sciocchezze che vengono raccontate dagli altri, dalla cosiddetta informazione indipendente che molto spesso indipendente non è e che a volte corre anche il rischio di marciarci un po' e di cavalcare questa cecità con cui quegli stessi critici nei confronti dell'informazione tradizionale e ufficiale poi dimostrano e rivelano nei confronti invece di informazioni tra virgolette alternative che accettano in modo quasi passivo. Io non credo che il futuro sia questo. Non credo che il futuro sia l'informazione alternativa che prenda il sopravvento per il semplice fatto che non sarebbe più alternativa per esempio e che sarebbe quindi quella una nuova informazione di sistema. E temo moltissimo che molti ambienti antisistema non mirino a null'altro che a sostituirsi al sistema in questo momento predominante per diventare a loro volta sistema. Credo invece che il futuro dell'informazione e questo farà sicuramente inorridire i giornalisti che faranno di tutto per evitarlo e vi ricordo che il Movimento 5 Stelle inizialmente si era prefisso il compito l'obiettivo di cancellare gli ordini a cominciare da quello dei giornalisti era un cavallo di battaglia di Beppe Grillo e invece nessuno ha toccato l'ordine dei giornalisti come tutti gli altri ordini professionali. Ma io credo appunto che a discapito di quanto ne pensi un ordine come quello dei giornalisti l'informazione futura, soprattutto se girerà bene e se quindi si arriverà a un'informazione realmente fedele nei confronti dei cosiddetti fatti potrà essere soltanto quella fatta da ognuno di noi. Io immagino una rete di, diciamo, volontari che nel corso della loro quotidianità da tutte le parti del mondo candidatisi per far parte appunto di una rete di informatori a livello planetario raccontino quello che sta succedendo dal loro balcone, dalla loro finestra davanti ai loro occhi e magari smentiscano con informazioni il più possibile capillari le news che vengono magari in maniera distorta diffuse da uno o dall'altro sistema. Immagino infatti una rete di persone che postino su social e su qualsiasi forma di piattaforma informazioni che tendano a correggere quelle diffuse in maniera faziosa dai sistemi di potere dando la propria testimonianza fornendo e mettendola al servizio di tutti la propria testimonianza diretta. È il colmo che, per esempio, nell'era in cui le foto possono essere modificate o addirittura create da zero con forme di software ormai sofisticatissimi ci si basi sulle foto come prove effettive che vengono diffuse per esempio in internet o sui vari quotidiani e nei vari organi di cosiddetta informazione. Quello è un problema e probabilmente questo nostro guardare per basarci sui fatti non ha più niente a che vedere con il guardare il fatto direttamente con gli occhi e senza passare attraverso una fotografia che appunto potrebbe essere stata opportunamente modificata corretta come si suol dire photoshopata. Quindi non possiamo più basarci su questo tanto meno sui video sui filmati occorre guardare di persone siccome non possiamo permetterci di prendere andare in Brasile a vedere cosa sta succedendo in quel determinato quartiere qualcosa del genere potrebbe essere molto bello creare appunto una connessione tra tantissime persone in giro per il mondo che l'informazione la facessero direttamente raccontando quello che vedono. Chiaramente dovrebbero essere le loro delle testimonianze certificate la loro identità dovrebbe essere comprovata dovrebbero essere persone di grande responsabilità e non dei burattini o di nuovo degli strumenti di chissà quale potere più o meno occulto ma questo potrebbe essere la soluzione in qualche modo un passaparola sempre più fattibile ormai e realizzabile in quest'epoca di internet ma gestito di nuovo come è un po' il mio difetto credere nella dalla collettività esattamente come sono convinto che si dovrebbe fare con la politica che i singoli manifestanti in giro per le città e che sostengono il movimento ambientalista sporchino è una cosa molto brutta vederla in tv o vederla o vederne le foto su internet però non prova assolutamente che questo sia avvenuto sia perché quelle foto potrebbero essere artefatte sia perché potrebbero riguardare altri luoghi e altre manifestazioni ma anche fosse che si trattasse di una di una di un fatto vero e proprio e che ci fosse stato quel tipo di contraddizione di un manifestante a favore dell'ambiente che più o meno volontariamente lo deturpa che cosa cambierebbe e quanto screditerebbe l'impegno di chi quel tipo di attivismo lo guida lo personifica e per il quale quindi si spende quotidianamente e tutto sommato siamo pieni di contraddizioni e di persone che con una mano fanno una cosa e con l'altra l'opposto per dirla con Lutero qualsiasi atto qualsiasi azione anche la più buona sotto sotto è sempre cattiva perché siamo umani e ognuno di noi cerca sempre il proprio tornaconto io mentre in questi giorni mi sto battendo come un leone per diciamo diffondere il più possibile la mia iniziativa a favore di Assange dell'otto di ottobre per esempio contemporaneamente so benissimo dentro di me che questo tipo di lotta può tornare utile anche per rendere più presente il mio nome e come si può dire e quindi in qualche maniera averne un tornaconto resta il fatto che comunque l'azione è nella stragrande parte della sua totalità condotta diciamo in buona fede e secondo una finalità che io considero superiore quella di risvegliare le coscienze nel mio piccolo e per quello che mi permettono di fare visto che me la stanno boicottando moltissimo nei confronti di un problema gravissimo come quello della situazione che sta vivendo Julian Assange quindi qualsiasi cosa può avere un tornaconto e può avere un secondo fine ma non significa questo che sia tutto da buttare allora quello che mi sento di consigliare è spendiamoci andiamo a cercare quando vediamo una qualsiasi informazione non cerchiamo di screditarla soltanto perché non ci fa comodo e non è in linea con le nostre convinzioni oppure di accettarla criticamente soltanto perché rafforza le nostre convinzioni impariamo a liberarci un po' dei dogmi che in qualche maniera si sono instillati nella nostra mente nel nostro animo e cerchiamo di approfondire andiamo a cercare facciamoci venire delle idee per controllare per verificare l'informazione dipende ormai soltanto da noi i fatti dipendono ormai soltanto da noi per poterla dire in un modo forse un po' più roboante la verità dipende ormai soltanto da noi e tutti quelli che non hanno voglia di impegnarsi e che sono pigri e che preferiscono accettare un dogma e rifiutarne un altro tutto sommato si stanno condannando a un mondo di ombre esattamente come gli schiavi di quella famosa caverna di cui parla il mito di Platone che tanto amo e di cui ho più volte parlato grazie a tutti